Dottor Daniele Donato, qual è la situazione in questo momento all'ospedale? Adesso l'ospedale ha vivi 173 posti letto, ne abbiamo 18 di terapia semi-intensiva, di cui anche nei 170 sono compresi anche i 18 di terapia intensiva. E questa situazione è ancora gestibile o ha cominciato ad essere in affanno? No, per adesso noi abbiamo una situazione che è sotto controllo, o comunque siamo pronti nel momento in cui ci fosse la necessità di aprire ulteriori posti letto. Che cosa ci può dire di questo virus? Come si sta presentando questa nuova emergenza? La nuova emergenza è analoga a quella della primavera. Registriamo una riduzione dell'età media dei pazienti ricoverati e sono pazienti che riusciamo anche a gestire con una degenza media inferiori all'esperienza che abbiamo fatto in primavera. Tutti si stanno appunto domandando questo, ci sono maggiori guarigioni e meno ricorso alle terapie intensive. È cambiato il virus? No, non è cambiato il virus, è cambiato il modello che diamo all'assistenza ai pazienti. Verso marzo-aprile avevamo molti più possiedi di terapia intensiva che adesso abbiamo contingentato a 18 e lavoriamo molto di più con le terapie semi-intensive. E per quanto riguarda le cure invece che vengono utilizzate? Direi che i nostri clinici sono stimentati molto più bravi. Abbiamo la possibilità di utilizzare il plasma, abbiamo la possibilità di utilizzare i farmaci, abbiamo la possibilità di utilizzare degli altri presidi che si dimostrano utili nella cura e nella presa in carico di questi pazienti. Lei ha detto ce la facciamo ancora, però c'è anche personale appunto che è più stanco, persone che devono stare in quarantena perché sono entrate in contatto con il virus, persone che l'hanno contratta, la malattia? Si direi di sì, mentre a marzo-aprile avevamo la novità, non sapevamo che cosa ci aspettava, adesso invece sappiamo a che cosa andiamo incontro. Ma l'altro giorno ho fatto questo esempio ai colleghi, ai direttori di dipartimento. Le squadre forti nel momento in cui fanno la differenza rispetto agli avversari è quando giocano bene essendo stanchi. Ecco quello che noi stiamo facendo adesso, una squadra forte come l'azienda ospedale di Padova di sicuro saprà dare delle risposte adeguate ai pazienti che si rivolgono a noi. Che effetto le hanno fatto le immagini degli assembramenti di questi giorni, di ieri? Va sempre raccomandato che tanto dipende da noi, dai nostri atteggiamenti, dai nostri comportamenti. Quindi l'isolamento sociale, la mascherina e il lavaggio delle mani sono indispensabili perché il virus non si diffonda come si sta diffondendo adesso. Voi non avete ancora modificato l'attività dell'ospedale? No, noi ancora non abbiamo modificato in modo significativo l'attività dell'ospedale. C'è arrivata proprio l'altro giorno una direttiva in cui bisogna ridurre l'attività ambulatoriale ma da noi direi che l'impatto non è così significativo perché continueremo i trapianti, continueremo a trattare i pazienti complessi, continueremo a eseguire interventi di alta chirurgia. Quindi tanta attività comunque la garantiremo. Vuole fare un appello ai padovani? Ecco, aiutiamoci tutti con le misure a cui facevo riferimento prima.